Lo scorso anno noi di Rossini TV abbiamo seguito la nuova edizione del premio Donna di Genio creato dal terziario Donna Confcommercio Pesaro Urbino. Tra le premiate c'è anche Nicoletta Tagliabracci che è tra l'altro anche un volto noto di Rossini TV perché è anche la conduttrice di Green Tour, ma è stata premiata in questo caso come ambasciatrice enogastronomica del nostro territorio. In cosa si concretizza questa attività Nicoletta? Grazie, buongiorno a tutti. Il titolo è un po' pomposo in effetti, sembrerebbe un po' altisonante, però vuole dare risalto soprattutto al fatto di ambasciare, cioè di far conoscere, di portare tutto quello che è lo studio e la conoscenza dei nostri prodotti all'estero, quindi all'esterno, all'esterno della nostra città, provincia, regione e perché no anche nazione. Quindi tutto quello che vuole essere una serie di iniziative per portare le persone a conoscere i prodotti del nostro territorio. Alcuni sono di nicchia, alcuni sono un pochino più conosciuti, altri di meno, altri sono stati recuperati da produttori coraggiosi che hanno ritrovato antiche ricette o antichi metodi di preparazione di quel tal vino, di quel tal prodotto, o salumi, formaggi, pane, insomma tutto quello che rientra anche nella nostra cultura enogastronomica locale. Quindi tra gli eventi e tra gli ultimi eventi ricordo Cali City dove tu hai coordinato un importante dibattito riguardante questi argomenti oppure anche il tuo libro? Sì, Cali City prendeva come oggetto solamente i vini, quindi l'enologia della nostra provincia, partendo però da un dato importante che era quello dei vitigni dimenticati e recuperati. Quindi anche lì una bella storia, una bella cultura, cultura, quindi vitigni antichi che erano stati abbandonati, sono stati recuperati e adesso sono il vanto e l'onore e fanno la differenza nella produzione enologica della nostra provincia. E come sei arrivata a scrivere un libro su Dante e la sua capacità diciamo culinaria, la sua dote culinaria? Sì, l'anno di Dante ha dato spunto a tantissime iniziative e nel mio piccolo mi ero chiesta se effettivamente potevo anche io dare il contributo, mi sono data subito la risposta, ho detto impossibile che ci sia ancora qualcosa da dire o da dare sull'immagine di Dante. Poi però mi sono immaginata quello che poteva essere il suo percorso enogastronomico, quindi che cosa avrà potuto mangiare Dante nel suo peregrinare in giro per l'Italia. E quindi ho ipotizzato di scrivere questo libro seguendo in realtà lui a tavola presso le varie corti che l'hanno ospitato o nei monasteri che ha incontrato e che lui amava particolarmente o nelle taverne dove inevitabilmente si sarà fermato qualche volta a fare uno spuntino. E quindi ho cercato di concentrare l'idea del cibo principalmente nel centro Italia e anche nel Medioevo legato proprio al suo periodo. Obiettivi e progetti per questo 2022? Gli obiettivi sono quelli di continuare a portare nella mente delle persone tutto quello che è la conoscenza dei nostri prodotti, sia enologici che gastronomici. Quindi un recupero di tutti quegli antichi sapori o comunque di tutto quello che c'è di buono e di bello della nostra provincia, della nostra terra. Quindi tanti progetti che legano degustazioni o food tour per portare le persone direttamente nei luoghi, quindi a riscoprire il genius loci enogastronomico.